L'Entella raggiunge Juve Stabia e Pordenone in Serie B. Il verdetto del Girone A arriva all'ultima giornata ed è l'ennesima sorpresa di questo finale di campionato. La capolista Piacenza cade inopinatamente a Siena e la squadra di Boscaglia ne approfitta per operare il controsorpasso, quello che definisce le sorti di una stagione. Ma i Liguri hanno rischiato davvero grosso. Il gol che decide il destino delle due antagoniste arriva ad un minuto dal novantesimo di Entella Carrarese. È mancoso entrato al ventiquattresimo della ripresa a far saltare il tappo per la festa bianco-celeste. Chiavari brinda così al ritorno nella cadetteria dopo un solo anno di purgatorio e il finale trilling del torneo amplifica la gioia dei tifosi Liguri che avevano temuto il peggio. L'attaccante cagliaritano entra nella storia della Virtus. Il club del presidente Gozzi ritrova la B dopo la retrocessione della scorsa stagione, arrivata ai play-out contro Lascoli e dopo il frustrante tentativo di un ripescaggio mai arrivato. Juve Stabbia, Pordenone e Virtus Entella dunque sono loro le regine della Serie C. Per il quarto nome bisognerà attendere l'esito dei play-off promozione. Piacenza e Pisa nel girone A, Triestina, Timolese e Feralpi Salò nel B, Trapani, Catanzaro e Catania nel girone C sono le favorite. Ma occhio alle sorprese perché in uno spareggio che si rispetti non mancano mai. Ed è il condottiero di questa squadra che all'ultimo è riuscita a salire in Serie B, Roberto Boscaglia collegato dagli studi Rai di Genova. Roberto, benvenuto e complimenti. Grazie, buonasera, buonasera a voi, ciao Giacomo, ciao Mario. Quindi senza cravatta anche tu, ti sei sentito con Mario, vi siete telefonati, vi ha detto no? Sì, sì, facciamo gli anticonformisti. Bravo, bravo. Assolutamente. Ciao Roberto, complimenti. Senti Roberto, questa vittoria all'89, ce la vuoi raccontare? Perché insomma, lo ricordiamo, eravate dietro al Piacenza, Piacenza che perdeva a Siena, voi però con il pareggio insomma non era proprio un risultato ideale. Che è successo in quel momento? Beh, la vittoria è arrivata al novantesimo così per caso, ma noi siamo stati avanti a tutti quanti dalla prima partita. E loro ci avevano sorpassato nello scontro diretto e ci siamo ripresi quello che avevamo lasciato a Piacenza, tutto qui. Eravamo convinti che potesse succedere, la verità è questa. La squadra ha giocato una grandissima partita, sapendo che il Piacenza comunque aveva un incontro molto difficile col Siena, è perché il Siena è una squadra forte, è perché si giocava una posizione importante di classifica per i play-off e soprattutto perché lo scorso anno comunque il Piacenza aveva tolto al Siena la possibilità di andare in B. e quindi sapevamo che questo poteva portare qualche problema a Piacenza e nonostante questo noi dovevamo vincere la nostra partita. L'abbiamo fatto con un grande merito, anche se il gol vittoria di Mancosi è arrivato all'ottantanovesimo ed è successo quello che tutti quanti sapete. Senti, il direttore sportivo, fermo restando i complimenti al Piacenza, perché diciamo la verità ci sarebbero volute due promozioni dirette per il campionato che avete fatto tutte e due. Però il direttore sportivo Mattea si è lamentato di alcuni episodi nella gara con il Siena, un gol annullato a loro, uno secondo il direttore non regolare dato al Siena, però ha anche detto a questo si è aggiunto anche il gol in netto fuorigioco di Mancosu e sono cose che non sono belle per chi come no si impegna per l'ambiente del Piacenza. Cosa rispondi a questo? Che la vittoria dell'Entella è una vittoria straordinaria, che è strameritata, che è una vittoria che ha... L'Entella, sin dalla prima partita, è stata prima in classifica. Noi abbiamo giocato 39 partite in 164 giorni, quindi significa una partita ogni quattro giorni per quello che abbiamo subito quest'estate, tutti quanti sapete. E nonostante questo abbiamo fatto un campionato strepitoso, quindi merito ai ragazzi. Tutto il resto sono chiacchiere che volano via, che vanno al vento. Il fatto sta che noi abbiamo fatto una stagione straordinaria e meritiamo di andare in B. Il resto, ripeto, non mi interessa. Ma era in fuorigioco quel gol? Come l'hai visto? Penso che fosse 3-4 metri di fuorigioco. Io speravo in realtà che fosse in fuorigioco il gol, perché visto che quest'anno comunque abbiamo subito qualche torto anche noi, speravo che fosse in fuorigioco. Poi l'ho visto e purtroppo era regolare. Avrei goduto di più se fosse stato in fuorigioco, dico la verità. Allora, ti faccio vedere adesso la festa, che naturalmente ti ha visto protagonista. Guardiamola insieme, la festa ovviamente a Chiaveri per questa promozione. La vediamo insieme. Così è stato ancora più bello. In una frase sulle magliette dei giocatori la soddisfazione e la fatica per il traguardo raggiunto, dove quel così racconta il tour de force della squadra. L'inizio del campionato due mesi dopo gli avversari, un filotto di 39 partite in cinque mesi. E così la grande festa per il ritorno dell'Entella in Serie B diventa anche occasione per il presidente Gozzi per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Siccome mi sono sentito dire per mesi che denunciavo le cose che non vanno nel calcio perché avevamo perso, adesso che abbiamo vinto e che siamo in B, teniamo il punto. Dalla piazza tutto il sostegno di Chiaveri alla formazione Ligure. L'affetto dei nostri tifosi, una Sud come non la vedevo da tantissimo tempo. Fatto vedere che anche dal punto di vista del rapporto tra società, calciatori e tifo, siamo stati capaci di costruire una cosa importante. Non si vince divisi. Un'impresa vera quella dell'Entella, partita a metà novembre perché in attesa che il TAR si pronunciasse sulla richiesta di essere riammesso alla Serie B al posto del fallito Cesena, un provvedimento mai reso esecutivo da FIGC e Lega. Insomma, avete lottato molto da inizio stagione con tutto quello che abbiamo detto. Senti, per te la seconda promozione con il Trapani hai fatto una scalata fantastica dalla Serie D alla Serie B. Che differenze ci sono personalmente rispetto a queste due vittorie? Quello era un gruppo che era nato insieme in Serie D e che ha raggiunto la B anno dopo anno in un'escalation incredibile. È un gruppo che già conoscevo, che si conosceva. Questo è diverso, è completamente diverso perché è un gruppo nuovo. Io sono arrivato quest'anno con il mio staff e soprattutto siamo arrivati dopo una retrocessione. quindi c'era da lavorare anche psicologicamente già di suo. E in più, poi, quest'estate tutti quanti sapete quello che è successo. Quindi abbiamo ritardato il nostro ingresso in campionato di due mesi e mezzo ed è stato veramente molto faticoso, molto faticoso. Però ripeto, ho avuto la fortuna di allenare quest'anno dei ragazzi straordinari a livello professionale. I grandi, tra virgolette o i meno giovani, mi hanno aiutato tanto perché hanno preso per mano i più giovani e li hanno gestiti bene. Io e il mio staff abbiamo fatto il nostro. Abbiamo, ripeto, l'altro ieri, abbiamo tirato le somme, come si suol dire. E niente, ripeto, la squadra ha fatto secondo me un capolavoro. Resti lì? Resti anche a Lentella l'anno prossimo? Sì, dai, parleremo con la società in questi giorni. Diciamo che in linea di massima abbiamo già parlato, non dovrebbero esserci problemi. Senti, Mancoso ha detto il gol lo dedico soprattutto a Boscaglia che per me è come un padre. Però poi sono andato a vedere l'età, 34 anni. Te ce n'hai 51. Quando l'hai avuto, più o meno? Minorenne? Cioè, come è successo? Eh, ma io sono uno precoce. Molto precoce. No, no, mi fa piacere. Matteo è stato presso per questo. Avevamo bisogno di attaccanti di valore. Lui, io lo conoscevo, quindi so quello che ci poteva dare. Secondo me lui ha iniziato benissimo la sua avventura a Lentella, poi ha avuto un piccolo infortuno e gli sono nate anche due gemelline che secondo me l'hanno fatto due mili a poco negli ultimi tempi. Tavano, Roberto, molto velocemente. Vuoi dire qualcosa su questo cannoniere, come dire, eterno? Che devo dire? Non solo i numeri parlano per lui. Lui non solo fa gol, ma li fa di grandissima qualità. Straordinario. Allora, io sono in conclusione perché è stata una puntata anche un po' più breve del solito e voglio dirvi che sul sito di Resport avrete la possibilità di votare il gol più bello della stagione 2018-2019. Ci sarà la Coppa Mario Facco che sarà assegnata al giocatore che risulterà vincente. Quindi sul sito di Resport andate a trovare questi gol, i gol più belli dell'anno e potrete votare quello che vi piace di più. Ringrazio Roberto Boscaia. Roberto, grazie e in bocca al lupo per il futuro. Grazie a voi e vive il lupo. Grazie anche a Mario Somma. Grazie a voi. Noi ci fermiamo qui. Io naturalmente, l'ultima puntata per quanto riguarda la stagione regolare, e quindi un grazie a tutti i tecnici di studio, Gian Paolo Salomone che ha curato la regia, Paolo Ciotti, Fabio Petroiusti, la redazione Calcio, la Line e anche Francesca Diana che ci ha supportato in tutto questo anno. Grazie a tutti. Mario, alla prossima. Alla prossima, ciao Giacomo. Grazie. Grazie a te. Arrivederci. Grazie a tutti.